Eccoci qua, allora adesso abbiamo Anna Vittoria Magnana, brand ambassador di 221, detto anche 221 Luxury Network, ok? Raccontaci un po' che cos'è e a chi si rivolge. 221 nasce di fatto come una società che offre servizi di tecnologia, marketing e una vetrina internazionale in 15 paesi nel mondo, nasce da un'intuizione di Cassiano Sabatini che è qui con noi che farà poi un talk più tardi su nuovi aspetti dell'immobiliare e diciamo che nasce un pochino per supportare il potenziamento delle agenzie e degli agenti che hanno interesse, voglia e anche un po' di coraggio a esporsi a una vetrina internazionale a potenziare le proprie opportunità e a potenziare la propria immagine. Perfetto, ma quindi sono nell'ambito Luxury? Cioè questo è il target? Sì, c'è un'idea di specializzazione del lusso, di fatto all'interno della rete di circa 5500 agenti sono dati che si aggiornano continuamente e ci sono anche altri operatori che si occupano del lusso, quindi broker nautici, dealer d'arte e questo è stato pensato per sfruttare le sinergie, siamo in tema oggi visto che è il titolo del nostro appuntamento e è stato pensato proprio per condividere i contatti, la generazione di lead, fidelizzare anche i clienti e diventare una sorta di punto di riferimento per tutta una serie di prodotti complementari, immobili e beni di lusso. Perfetto, quali sono le caratteristiche che cercate in un partner dal punto di vista immobiliare che si vuole unire a voi? Io mi aspetto che sia di interesse soprattutto per agenti e agenzie che si trovano all'interno delle principali città d'Italia, città d'arte, Milano, Roma, Firenze, Venezia, le località turistiche principali di interesse internazionale come le due isole, la Liguria, mi viene in mente anche tutta la parte di Sorrento per cui abbiamo diverse richieste. Di fatto però ci rivolgiamo anche a una serie di agenti che si trovano in alcune località e territori molto ricettivi per noi perché ricchi di imprenditori, professionisti che potenzialmente sono un ottimo parco clienti da aggiungere al nostro portafoglio di contatti. Quindi di fatto ci rivolgiamo a tutti quegli agenti e agenzie che hanno voglia di aprirsi all'internazionalizzazione, potenziare la propria attività e ovviamente presentare la propria immagine in modo diverso. Ti viene in mente al momento quali sono i mercati dove l'Italia ha più appeal? Cioè quali sono i paesi da cui arrivano la maggior parte dei riscontri positivi dei clienti? Su Milano abbiamo diverse richieste da Londra, abbiamo richieste in Franciacorta che banalmente è una zona a cui non penseresti mai. Adesso ho un'altra trattativa nella zona di Faenza, anche lì, che sono zone meno battute a cui sì ovviamente aggiungono tutte quelle un po' più pop, chiamiamole così, dell'Argentario, Roma moltissimo, anche la zona dei laghi, seguiamo diverse cose sul lago di Garda e in Svizzera, perché comunque metà dell'azienda è appunto con una sede tecnologica a Lausanna, quindi siamo già internazionali di nostro. Invece il target dei clienti che intercettano comunque le proposte, da dove arrivano? Allora, i clienti arrivano da un lato, abbiamo una sorta di intelligenza artificiale, un chatbot all'interno della piattaforma che monitora il tipo di richieste che arrivano, quindi se stai guardando tante ville nella zona di Lugano, piuttosto che se stai cercando un budget particolare e lui è in grado tramite un assistente virtuale di interagire con l'utente che sta visualizzando le pagine, raccogliere la richiesta e lo passa poi a uno dei nostri consulenti che lo qualifica e poi passa al lead, alle agenzie partner che lavorano con noi o gli agenti. Quindi con un bot praticamente fate le domande chiuse per capire quali possono essere le esigenze e direzionarlo nella maniera corretta. Da un lato sì, e poi abbiamo campagne marketing, marketing specializzato, marketing territoriale, l'idea è lavorare delle soluzioni ad hoc con i nostri partner, ad esempio vuoi potenziare particolarmente la vetrina di un immobile perché non è in centro a Milano o a Roma che è semplice venderlo, magari è un casale bellissimo ma è in una località lontana da tutto e noi allora ci lavoriamo con i nostri consulenti a un'idea di campagna, di target, di newsletter in base alle impression o targettizzare già portafoglio clienti presenti, chi può essere interessato a quella zona e quindi diciamo che è una vetrina internazionale da un lato ma allo stesso tempo noi attuiamo tutta una serie di azioni per poter appunto esporla al meglio e ci sono tutta una serie di strategie nel back office diciamo. Non è banale anche perché alcune agenzie hanno magari un certo tipo di target di immobili e si trovano a gestire immobili magari di un certo tipo, parliamo magari di cose di lusso piuttosto che un casale ad esempio o nell'entroterra quando uno è abituato a trattare la costa e utilizzare strategie diverse che possano ottenere risultati diversi è un'iniziativa interessante insomma, è più o meno anche questo giusto quello che riesce a portare. Senti, come fa un agente ad accedere al vostro network? Piegami un po' come può funzionare quindi l'approccio, la metodologia e anche un po' di operatività di come può migliorare poi alla fine il lavoro della gente con la vasta struttura. Allora c'è un periodo come dicevo prima di affiancamento dei nostri consulenti all'agenzia o la gente per capire un pochino le necessità, quindi perché vuoi entrare in 2-2-1, perché hai bisogno di potenziamento internazionale, perché hai bisogno di maggiori strategie di affattamento di marketing, di campagne particolari, pubblicitarie eccetera e vengono diciamo in un periodo chiamiamo di hearing, l'ho detto in inglese ma in realtà è semplicemente un periodo in cui si fa una sorta di idea su quale potrebbe essere la migliore strategia per captare le opportunità e moltiplicarle e dopo questo periodo viene creato ovviamente l'accesso, il login all'area riservata perché voi se digitate 2-2-1 avrete la visione solamente del sito web da fuori, all'interno c'è tutta una tecnologia costruita, di cui 2-2-1 è proprietaria, costruita con un'area riservata, con una serie di immobili in off market, la possibilità di gestione dell'off market che è una modalità molto utilizzata soprattutto per i mobili di lusso, ville importanti e tutta c'è una tecnologia per la gestione dei contatti, veramente all'interno c'è veramente di tutto quindi poi in un periodo di affiancamento, di training anche con il cliente si spiega quello di cui ha bisogno e man mano poi si studiano nuove strategie, però mi serve anche che mi presenti magari alla gente estero e quindi insomma c'è veramente di tutto e poi c'è un team di consulenti qui facevo riferimento prima, che invece lavorano sulla vendita, quindi si occupano di qualificare i lead, i clienti, li fidelizzano e sfruttano anche le potenzialità del cross-selling, quindi da qui l'idea di avere una sinergia tra beni complementari di lusso tra una yacht, una supercar generare dei contatti, dei lead, delle sinergie anche con agenti e clienti che si interessano a questi altri settori per moltiplicare le opportunità. Anche perché il target è quello, quando andiamo su immobili di un certo tipo probabilmente hanno anche altri utilisti dello stesso settore, insomma tra barche e aere piuttosto che bene di lusso, quindi è anche una cosa intelligente sfruttare questo filone. C'è anche una community interna dove dicevi che c'è la possibilità di poter sfruttare le potenzialità dell'off market, giusto? Quindi alcuni immobili che necessitano di un certo livello di riservatezza, parliamo di immobili importanti dove la privacy è da salvaguardare e non è possibile pensare di metterli sul mercato, quindi in questo modo nella community c'è possibilità di poter riuscire a... Di gestione dell'off market, esattamente, con informazioni di primo livello e lo screening della persona che richiede maggiori informazioni una volta che arriva la richiesta. All'interno della piattaforma sì, c'è una community attiva, una rete di agenti che facevo riferimento prima, sono circa 5.500, un social media in cui possono parlare, la tecnologia che ovviamente velocizza anche tutti questi processi, si può chiamare, prenotare un appuntamento, in automatico se hai bisogno di parlare con un collega, non so, un collega di Londra che cerca un immobile a Milano può chiamare direttamente il collega e gli squilla in videochiamata il telefono, quindi veramente c'è tanto di tecnologia. Il tipo di agente immobiliare ideale è quello standard, quello di un'agenzia classica su strada, quello che già è posizionato su un livello alto? Spiegaci un po' quello che può essere il profilo ideale per voi. Ci rivolgiamo ad agenti che hanno la volontà di specializzarsi nel lusso, la volontà, la voglia, la volontà di proporsi in un modo diverso, di internazionalizzarsi, di parlare con 15 paesi nel mondo e di uscire allo scoperto perché la gente non è un 007, ha bisogno di comunicare e può parlare istantaneamente con questi 15 paesi nel mondo con una traduzione simultanea, con la conversione in 84 valute, quindi veramente c'è il massimo del supporto della tecnologia con tutto questo. E quindi sì, la risposta è che non c'è proprio un profilo ideale in questo, più che altro, la volontà di specializzazione, la ricerca, della moltiplicazione delle proprie opportunità. Beh, immagino che ci sia comunque un background, quando si parla di lusso non credo che vada bene a tutti, giusto? Serve tanta formazione per lavorare con il lusso. E questa è una cosa che riuscite comunque a dare tramite la piattaforma? Sì, avremo dei training, dei webinar, dei momenti d'incontro per la rete, dei momenti anche di formazione al riguardo. Perfetto. Come possono fare a contattarvi potenziare agenti candidati, diciamo, perché poi immagino che ci sia anche un po' di selezione, adesso oltre alla motivazione immagino che ci sia dei presupposti affinché possano far parte di questa community. Ci trovate su 221, Luxury, ho detto prima 221, scritto proprio con il numero e da lì c'è un pulsante join da cui potete, c'è una sorta di call to action, potete lasciare tutti i vostri contatti, oggi invece se ci intercettate siamo qui e siamo disponibili per rispondere a tutte le vostre domande e poi siamo su tutti i social e sicuramente se vi segnate la nostra newsletter avremo occasione di incontrarci in qualche evento della nostra rete. Perfetto. Ti ringrazio. Grazie a te. Grazie.